ciao a tutti ragazzi e benvenuti sullele king tv tutte queste belle figurine ragazzi attaccare sull'album della liga iniziamo subito ragazzi e iniziamo subito non perdiamoci troppo in chiacchiere perché c'è veramente tanto da fare ne abbiamo tante da attaccare iniziamo dall'alaves con la figurina numero 12 a che andrebbe o questa o taci lasciamo quella che abbiamo attaccato a questo punto anche perché non mi sembra tutto sto fenomeno duarte qui se possiamo scegliere poi abbiamo dell'atletico del club atletico la 6 bis che il portiere poi abbiamo anche la numero 10 però le bis dovrebbero essere ancora diverse da a o b ma forse le bis sono proprio quelle nuove non lo so poi abbiamo la numero 6 del barcellona perché dell'atletico abbiamo trovato nessuno andiamo alla numero 6 del barcellona che è neto eccolo che va qui sopra la volta che are neto poi abbiamo la numero 8 che va qui che è piquè poi abbiamo del real betis la numero 7 montoglia che va qui sopra anche questa c'è un che ci manca poi abbiamo la numero 13 a che ce l'abbiamo rui balla poi abbiamo numero 16 bis carvaio questa è bis ragazzi quindi deve essere vabbè non ho capito bene tra bis e a e b comunque a e b dovrebbe essere scelta bis dovrebbe essere a questo punto un aggiornamento una cosa del genere poi abbiamo del cadiz abbiamo numero 15 b abbiamo attaccato la a e ce la teniamo la poi abbiamo del celta la numero 7 che ci manca poi abbiamo la numero 8 a poi abbiamo la numero 8 a poi abbiamo la numero 11 a che già ce l'abbiamo poi andiamo all'elche lo abbiamo a numero 12 che va qui poi abbiamo da numero 12 che va qui poi abbiamo la numero 12 delle spagnola eccolo qui sopra ecco qua mi ha attaccata non siamo andati proprio benissimo attaccarla questa volta, numero 16 sempre nel Ghedaffe ci manca abbiamo la numero 7B del Levante quindi dobbiamo saltare il Granata andare al Levante con la 7B che è Sol poi sempre del Levante abbiamo la 15B ma ce l'abbiamo già poi andiamo con il Real Madrid e qui abbiamo la numero 12B che è Marcello che non so quale sia l'altra figurina Marcello insomma merita di trovarsi fra i titolari del Real poi abbiamo la numero 13 che è Casemiro e poi abbiamo la numero 17 che è la 17A che è Asensio e anche Asensio qui ha una staffetta con qualcuno perché c'è un 17A anche B ecco qui poi Mallorca abbiamo la numero 8 che ci manca poi abbiamo la numero 9 poi abbiamo la numero 11 e poi abbiamo la numero 16B e poi abbiamo dell'ossasuna ce l'abbiamo ragazzi qui ce l'abbiamo anche firmata Javi Martinez ce l'abbiamo anche firmata e qui invece non è firmato la numero 4 quindi vedete che è anche diversa la posizione del calciatore fra quella firmata e quella non firmata bene lasciamo quella firmata quella autografata poi abbiamo la numero 4 questa volta parliamo di Rayo Valicano e questa ci manca abbiamo la 13A poi andiamo a Real Societad con la numero 9 che va qui poi abbiamo la numero 12B sempre del Real Societad la numero 14B la numero 14B la numero 14B Isaac con la numero 20B che va qui sotto ecco qua e anche lui l'abbiamo attaccato poi andiamo al Valencia quindi saltiamo in Siviglia andiamo direttamente al Valencia ed abbiamo trovato un buon numero di figurine devo dire la numero 11 Gaia poi abbiamo la numero 17 che ci manca e Ugo Duro che ce l'abbiamo poi abbiamo la numero 1 che è lo stemma del Villa Real e qui finiamo con le figurine normali ragazzi e iniziamo con la numero 2 che è Bebeto dei Magicos 50 ragazzi e qui veramente tanta roba ragazzi tanta roba questo paragrafo di figurine molto molto bello devo dire e poi abbiamo il numero 10 che è Fernando Torres poi abbiamo il numero 16 poi abbiamo la numero 20 la numero 21 la numero 25 che va qui sopra e poi ragazzi si passa agli aggiornamenti del calcio mercato la prima che abbiamo è la 48 addirittura quindi dobbiamo andare parecchi avanti queste sono veramente tante ragazzi sono una cifra di figurine la 48 che poi ci abbiamo anche Mustafi poi abbiamo la numero 51 che invece ci manca poi abbiamo Pastore che ce l'abbiamo poi abbiamo la numero 53 che ci manca poi abbiamo la numero 56 altra mancante va qui sotto e abbiamo la numero 60 che ci manca che è Falcao bene ragazzi io a questo punto vi saluto abbiamo trovato qualche doppione neanche più di tanto comunque vi saluto ci vediamo nel prossimo video ciao a tutti ciao a tutti